Sono Stefano, vengo dalla provincia di Brescia, ho conosciuto la clinica del dottor Palmas tramite internet e seguendo un po' quello che diceva mi sono entusiasmato e ho scelto questa clinica qua per ricostruire interamente la voca che ormai è arrivato un disastro. Mi sono trovato molto bene sia a livello dei dottori, dei chirurghi, dei ipotesisti sia delle ragazze che ci hanno seguito dall'Ala a Z, sia per l'appartamento che ci hanno trovato, di tutto, di accompagnamento e tutto. E ho praticamente rifatto gli impianti, ho sei impianti sopra, sei impianti sotto e la ricostruzione dell'osso, i due punti dell'osso da parte sopra non mancavano. Ho dovuto fare chiaramente come tutti due step diciamo perché appunto alla prima parte mi hanno messo dei provvisori e non mi hanno messo chiaramente dove avevo gli impianti con l'osso rifatto. Prima diciamo che tante cose non potevo permettermi di mangiarle perché erano troppo dure, poi mi si spostava, mi si muoveva e adesso mangio di tutto. Già con i provvisori che ho tenuto nove mesi tranquillamente, ho all'inizio con un po' di timore, poi ho detto vabbè, ci devono rompere, però è andato tutto tranquillo, ho mangiato di tutto diciamo, robe normali, robe tenere, robe dure. Bye bye!